Entriamo nel mondo della realtà virtuale e dei video a 360 gradi con LG Cam 360. L'oggetto che vedete nelle mie mani è davvero piccolissimo, ma potrebbe aprire una vera e propria rivoluzione, perché questo è il primo prodotto ad arrivare ufficialmente sul mercato italiano in grado di scattare immagini e girare video a 360 gradi. A cosa serve questo tipo di immagine? Per quanto riguarda le fotografie le potete condividere attraverso le piattaforme che già supportano questo genere di formato. Potete ad esempio caricarle su Flickr e attraverso il computer coloro a cui le spedirete saranno in grado di vedere dunque l'immagine nella sua interezza. In alternativa potete usare questo genere di immagini sul telefono compatibile, ad esempio LG G5 che nasce proprio per sfruttare al massimo le potenzialità dell'LG Cam 360. Per quanto riguarda i video invece è molto più facile utilizzare i video a 360 gradi perché già YouTube ma anche Facebook supportano questo formato. E l'utilizzo di video a 360 gradi è veramente molto semplice perché quando li si guarda attraverso Facebook basta muovere il proprio smartphone nello spazio per vedere quello che succede dunque in tutta la stanza che viene ripresa e ritratta nei videoclip. Entriamo un po' nei dettagli tecnici di questa fotocamera che combina due lenti e due sensori in grado di scattare foto con 200 gradi di apertura e quindi poi di miscelarli per raggiungere quello che è il risultato dell'immagine e del video a 360 gradi. C'è una batteria da 1200 mAh in grado di garantire riprese per 70 minuti consecutivi senza alcun tipo di problema. Dal punto di vista della risoluzione sono due fotocamere da 13 megapixel che vengono combinate con un risultato che risulta quasi magico. Vi devo dire la verità, la qualità delle foto e anche dei video per quanto riguarda le riprese a 360 gradi non è ancora altissima ma io credo che valga di più l'effetto emozionale dei video che vengono ripresi rispetto alla qualità dell'immagine in sé. Dal punto di vista sempre tecnico abbiamo detto batteria da 1200 mAh quindi 70 minuti di autonomia nel girare video si ricarica semplicemente aprendo la porta inferiore dove c'è un connettore USB Type-C di nuova generazione. La batteria non è rimovibile, questo potrebbe essere uno dei punti di debolezza, la memoria invece di questo oggetto è di 4 giga e possono essere espansi comunque utilizzando una micro SD fino addirittura a 200 giga. Potete sfruttare l'LG Cam 360 collegandola ad un telefono Android o un iPhone oppure semplicemente scattando la ceca. D'altro canto quando voi girate un video a 360 gradi non avete bisogno di puntare un oggetto in particolare, quindi anche per questo in alcuni casi potrebbe non essere necessario utilizzare il telefonino come mirino. Basterà premere a lungo il pulsante per lo scatto per cominciare a girare un videoclip. C'è poi un pulsante a bordo di questa fotocamera che vi farà decidere se le immagini che volete ritrarre sono a 180 o a 360 gradi. Un punto di debolezza è quello della parte sferica del sensore perché questa è una parte in vetro molto delicata ma LG ha pensato anche a questo e fornisce infatti la fotocamera, l'LG Cam 360 di una pratica custodia con cui potete trasportare la vostra camera senza alcun tipo di stress. LG Cam 360 viene già venduta in Italia ad un prezzo intorno ai 280 euro ed è la prima soluzione ufficialmente disponibile. Guardate, si possono fare cose davvero molto divertenti, assolutamente un oggetto approvato da Mr. Gadget.